Buongiorno a tutti, oggi è la giornata EA Shop, il giovedì come sempre e qua nella nostro studio, che sarebbe camera mia però è lo studio stiamo lavorando per aggiustare tutto lo studio per Nintendo per cui ci sarà domani una cosa inedita per tutti quanti ma ora andiamo a vedere EA Shop le novità eccoci EA Shop, andiamo a vedere, allora Arius Warriors pacchetto mostri ora disponibile, il pacchetto mostri di Arius Warriors, andiamo a vedere solo i pacchetti esistenti per adesso così vedete un po' cosa c'è di pacchetti allora i pacchetti mostri, pacchetti Majora Mask, set di costumi Orkallian of Tame, set di costumi Ski Walk Scored, set di costumi Wig Pisk, set di costumi del re Demone poi pacchetto Will Pisk, pacchetto Master Quest, pacchetto Eros Wirlson, pacchetto Mok va bene, e qua avete visto i pacchetti Kirby due novità del 2015, Holly, Holly, andiamo a vederlo allora, come potete vedere questa è la grafica, è tutto di skateboard salta, trick e altro, si chiama Holly Lolly, Holly Holly, vediamo un attimo come è valutato va bene, ok, Holly Holly, ok andiamo a vedere l'altro che c'è, Black, ancora, poi ancora sconto, occasione finale 4-0-3-2015 di Warner Bros, poi Han Gears, poi Cittadinanza of Earth, poi Capitan DoorDale, mitico Super Smash Bros, con gli Amiibo che potete usare lì MarioCAD potete usare anche qua gli Amiibo ma ancora non è arrivato ancora le macchine attivision, saldi, poi Santa, poi Wii Karaoke, nuove sfide, le novità in arrivo, poi spoglia tutti i giochi Wii U, poi Super Ghouls, Ghost, Metroid, Super Mario Galaxy 2, NES, Super Nintendo, Game Boy Advance e Wii, stile retro, e poi potete trovare Kirby, tutti i giochi Kirby. poi giochi indie, poi migliori del 0-1-2015, applicazioni e andiamo a 3DS, ora 3DS, eccoci al eashop, titan pack, poi bonus, gialla maggiore mask, questo qua, poi c'è questo gioco fino al 70% di sconto, oh i giochi, i giochi e il gioco è gratis, demo gratuita, di? andiamo a vedere solo di che cosa, demo gratuita, strano, demo gratuite più popolari ok, poi andiamo avanti, è arrivato, è arrivato una novità qua acquista, acquista, no, noi non lo acquistiamo, bella, poi andiamo avanti, occasioni, poi, word, questi qua, questi e questo, vedete, questi sono sempre gli stessi, vado così avanti, qua anche nella Wii U abbiamo visto e niente, sono sempre gli stessi, ok? ok, e ci vediamo alla prossima, però, alla prossima, ci vediamo alla prossima, lo sapete, ma c'è un torneo, io domani vi dirò tutto per il torneo, che farò qua, siete tutti quanti invitati domani saprete la data, di quant'è, e cosa faremo in chi torneo, per cui poi, vi volevo ricordare, mi troverete anche alla fiera Cartoon Comics a Milano, della fiera RAW che ci saranno i manga e i videogiochi, per cui ci vediamo lì ciao a tutti, e ci vediamo alla domani, così sapete tutto, e ciao